Cosa aspettarci quest'anno? Quest'anno c'è da aspettarsi tanto perché abbiamo realizzato finalmente il sogno di arrivare a 120 ragazzi che era quello che cercavamo di fare quando abbiamo superato l'edizione della Stella e quindi quest'anno per me è un motivo di orgoglio in più avere 120 ragazzi e ragazze soprattutto perché abbiamo una delegazione importante con 30 ragazzine, mamme anche e ragazze che superano i 25 anni che giocano in solità professionisti che non quindi il motivo per cui abbiamo anche preso lì a Pipitone, ex fortuna nazionale, è appunto per trasmettere oltre che a livello tecnico dei valori importanti che sono quelli che vanno nel progressismo femminile che da quest'anno è stato riconosciuto. Intanto c'è Marco Amelia che ormai è l'ambassador, ormai è di casa quindi non fa neanche più notizie e poi abbiamo preso Davide Moscardelli che ha tutta una sua storia, nasce in Belgio, a Mons, poi si trasferisce in Italia cresce calcisticamente lì e l'abbiamo scelto come scegliamo tutti i nostri testimoni perché noi scegliamo prima l'uomo e poi il campione che è un po' il nostro slogan e Davide rispecchia i valori della nostra Academy, Davide come tutti sanno poteva giocare tranquillamente in società importantissime di alto livello e lui ha fatto sempre delle scelte di vita fondamentalmente per stare vicino alla famiglia, per giocare dove forse i soldi non contavano più del calcio perché lui è un appassionato di calcio, quindi è un po' come tutti noi, quindi è il nostro papà questa settimana e sarà il papà di tutti questi bambini. Vi invito tutti domenica alle ore 18 alla sala conferenze del Saracen Hotel dove presenteremo il progetto, spiegheremo come andremo a lavorare la settimana e poi non potete mancare giovedì alle ore 18 alla sala Chemonia, sempre al Saracen Hotel che è la nostra casa ormai da anni, dove Davide Moscardelli e Marco Amelli incontreranno i tifosi, gli appassionati del calcio e vi invito veramente a venire perché raccontiamo delle storie più che calcio quindi sarà veramente bello di aspetto.